Non si lascia attendere la risposta del sindaco facenti funzioni del comune di Castellabate Luisa Maiuri alla nota dell'ex assessore Domenico Di Luccia dopo la revoca delle deleghe. La sindaca scrive, leggo in un post pubblicato dall'ex assessore Di Luccia alla luce di quanto successo l'azzeramento della giunta e costituzione della nuova giunta, l'accusa nei miei confronti di aver agito per coprire una spartizione di poltrone. Omette però di dire che da tempo, pur continuando a rimanere in maggioranza, ha iniziato un percorso in solitaria, contattando già eventuali prossimi candidati, spargendo ai 4-20 la propria volontà di rimettere le deleghe, cosa che puntualmente non ha fatto, ma soprattutto senza mai confrontarsi lealmente con il resto della squadra. Ho più volte provato a chiamarlo per affrontare De Visu la situazione, ma si è sottratto al confronto, dicendo in giro al contrario di aver parlato con me. La mia storia politica mi ha insegnato innanzitutto la lealtà nei comportamenti e il gioco di squadra. Fermo restando le legittime aspettative e ambizioni del consigliere Di Luccia, ritengo sarebbe stato più logico e opportuno un sano confronto in seno alla maggioranza e non intraprendere, da assessore in carica, un percorso diverso. La scelta dei nuovi assessori è andata coerentemente con il passato su coloro che hanno riportato più voti e nient'altro.